Dieci giorni fa ha riaperto al traffico strada Carloni dopo quattro mesi e mezzo di chiusura. Oggi lunedì 13 marzo si inaugura invece un nuovo cantiere, quello relativo a Via Fratti, dove verrà realizzata la nuova pista ciclabile, ma non solo, anche una serie di alberature, marciapiedi e anche una nuova rotatoria. Come minimo altri quattro mesi di lavori. Il comune di Pesaro aspettava infatti solo la riapertura di strada Carloni per avviare questo cantiere in una Via Fratti in questi quattro mesi dal traffico appesantito dalla realizzazione dell'interquartiere di Moraglia. Via Fratti questa volta non verrà chiusa al traffico come accaduto per i lavori a step ripetutisi nel 2022 per l'ammodernamento della rete del sottosuolo di luce, acqua e gas completata da marche multiservizi. Chiusure che allora crearono diversi disagi alla circolazione stradale. Questa volta invece il traffico non sarà interrotto ma perlomeno sarà rallentato almeno fino al 10 luglio data del termine di una ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata così come sarà imposto il limite di velocità dei 40 km orari e sarà allestito il divieto di sosta. Oggi ancora niente ruspe ma solo le prime operazioni di segnaletico orizzontale propedeutiche al via del cantiere sul quale è stato investito dal comune mezzo milione di euro per la realizzazione di una pista ciclabile che di fatto collegherà via Fratti con la bicipolitana di via Belgioioso e quella di via Trometta. Ciclabile corredata di alberature, marciapiedi e ridefinizione dei parcheggi. Una novità non secondaria sarà realizzata anche una nuova rotatoria intermedia all'incrocio con via Madonna di Loreto. E dunque si è partiti oggi con un lavoro molto ampio che di fatto proseguirà con altri due step ancora a caccia di ulteriori finanziamenti, quello del restyling viario e degli arredi di via Giolitti e infine terzo e ultimo step si procederà ugualmente anche su via Ponchielli.